Xavi, Xavi, dove sei? Xavi, Xavi è esultato come un pagliaccissimo quando avete fatto il primo gol e che cazzo avevate vinto? La finale di Champions, eh? Pagliaccissimo, è ancora qua Xavi Xavi, hai visto qua? Proprio in questa posizione, eh? Dembélé doveva essere espulso, Xavi su Darmian, tutto a posto lì, Xavi? Espulsione non data, quello tutto a posto, vero? Maledetti, modono che giorno dopo ragazzi, che giorno dopo in ufficio con i clienti, qua con la cosa Allora, 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 buongiorno ragazzi, il giorno dopo è ancora più bello, ho fatto fatica veramente a prendere sonno e stamattina dovevo essere presto in ufficio e mi giravano pure i coglioni perché dovevo alzarmi prima ma non riuscivo a prendere sonno, talmente si era adrenalinici per una partita così ho visto diversi vostri commenti e li capisco, nel senso che c'è la grande soddisfazione da una parte però addirittura il rammarico per non averla portata a casa, per non averla vinta quindi questo ci fa capire che tipo di partita ha fatto l'Inter e soprattutto che tipo di secondo tempo volevo analizzare un attimino con voi perché, che se ne dica, questa è un'impresa che ha fatto l'Inter al Camp Nou proprio per come l'avevano messa giù, proprio perché ha detto ma anche noi eravamo abbastanza consapevoli che insomma in un girone del genere si poteva andare benissimo in Europa League però poi l'Inter è pazza, e l'Inter è questa ho letto qualcuno che ha scritto, ah adesso devi, gli avevi dato contro Inzaghi ma certo che gli do contro, quando fare cazzate gli darò contro e secondo anno non posso fare critiche, di certo su questo canale non si è detto Inzaghi out mai detto, ho solo detto, se dovesse essere, che non ha in mano la squadra, video di 3 settimane fa allora sono il primo a dire, alzo le mani e dico no, bisogna cambiare ma lo dobbiamo vedere, e ce l'ha fatto vedere partita dopo partita, da Inter-Barcellona lo spogliatoio è col mister, quello è fondamentale quindi si va avanti così, perché su questo canale sono 7 anni che si dice i cambi in corsa non portano da nessuna parte quindi, quando c'è da fare le critiche, si fanno le critiche a Inzaghi e quando c'è da fare i complimenti, si fanno i complimenti ieri mi sono sentito di fare i complimenti a tutti ma di dire, hai rotto il cazzo pure tu mister ma era una cosa che io contestavo ancora quando era la Lazio perché lui nell'area tecnica, che sia piccola o che sia grossa non cambia un cazzo, lui non riesce a starci io mi ricordo degli anni in cui Lazio-Inter battuta la rimessa laterale, c'era magari Ivan Peris c'era Venzaghi dietro che urlava e gli rompeva il cazzo ed era fuori dalla cosa quindi è una cosa che ho sempre contestato e ieri stavamo tenendo palle, eravamo lì mancavano pochi secondi che cazzo vai a farti espellere? cioè capito? quello contesto, quindi il secondo anno così come con Conte, il primo anno non ti chiedo nulla il secondo anno, se permetti sei il mio mister, vieni pagato e se fai una cazzata la dico quindi ieri complimenti a tutti a parte sta cosa del mister Lautaro Martinez ragazzi Lautaro Martinez Lautaro Martinez voi sapete è l'amore che provo io per il toro e ieri insomma ieri avevo fatto un video ho detto stai a vedere che magari è proprio la sua partita visto che comunque mi ricordo un Inter Barcellona che era allo stadio che la pareggiamo con Icardi è vero ma lui l'ha giocata proprio col Barcellona poi fece quel bellissimo gol proprio in casa il suo primo gol europeo insomma Barcellona gli piace il primo tempo no voglio parlare di Lautaro perché è un giocatore voi sapete ma solo la stima che ho per la grinta che mette per come comunque onora sempre la maglia in campo poi chiaro che da una punta si chiedono cioè si spera che faccia un gol a partita però insomma purtroppo lui a sti periodi è andato a risbloccarsi proprio nella partita una delle partite più importanti quindi a Camp Nou una partita europea stesso discorso per Barella quegli inserimenti quel gol che io chiedo da Nicolo Barella ieri ha fatto un euro gol Nicolo a parte una grande prestazione Cialanoglu sontuoso ragazzi cioè Cialanoglu Cialanoglu avevo fatto un video post Inter Barcellona dove dicevo ragazzi questo Cialanoglu mi fa impazzire al di là del gol perché vedo e vi ho sottolineato che mi sembra che tira di più rispetto all'anno scorso e meno male però l'interdizione che fa e poi la qualità che ha insomma Cialanoglu veramente ripeto se andiamo indietro di un anno e mezzo mi ricordo tanta gente che lo schifava io ero felicissimo dell'arrivo di Ciala Ciala quindi sontuoso a centrocampo Cialanoglu davvero spettacolare Mkhitaryan a me piace ha dei momenti alterna magari qualche cazzatina però poi ha delle giocate le ripartenze poi è intelligente c'è poco da fare cioè ha intelligenza ai piedi quindi centrocampo spettacolare Onana 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 un po' meno un po' meno sicuro in delle cose che sembravano abbastanza facili e poi però ha fatto anche due o tre belle uscite di quelle sue che ha evitato pericoli di piede veramente di piede strane un lancio che è andato fuori per il resto ha i piedi buoni c'è poco da fare deve è anche fin troppo tranquillo ogni tanto nella giocata mi mette ansia però il gol il gol di Gosens cazzo viene fuori da un lancio spettacolare che lancia il campo aperto Lautaro che la mette giù fa una giocata bellissima per Gosens quindi Onana ancora promosso anche se deve stare più attento ma è comunque un portiere di 26 anni è un portiere che ripeto farà anche lui le sue cazzate come le fanno tutti i portieri però insomma ti dà più sicurezza c'è poco da fare ha fatto un'altra bella uscita anche in presa alta un paio un paio di interventi poi vabbè sul gol il primo gol quello che prendiamo lì è colpa di Di Marchino quello lì Raffinia va lì scattalo con la palla messa in mezzo a cazzo di cane così veramente c'è tutta la difesa immambolata ferma sulla linea hanno giocato il secondo gol è un gollonzo che subiamo il secondo gol è un gollonzo perché lì vedi devrai tra andate e ritorno secondo me ha giocato bene ha fatto due belle partite purtroppo ieri l'ha macchiata come con il tap in sotto porta cioè la traversa di Dzeko che poi non ce l'hanno più fatta rivedere la traversa non dico la traversa di Dzeko che poi va sulla linea ma subito dopo devrai a porta vuota praticamente non la butta dentro quello più il rinvio sbagliato dove la tira a cazzo di cane dentro l'area Lewandowski tira poi va anche sul briscola va quella palla va affanculo quello è un gollonzo però insomma macchiata un po' soprattutto da quel gol mangiato Stefan cazzo c'è pure i piedi tu quindi quello scrigno vabbè scrigno ragazzi veramente sta ritornando lo scrigno monumentale sarà anche la fascia di capitano che gli darà più superpoteri ma scrigno con la fascia di capitano mi fa impazzire a sinistra di Marchino non mi ha fatto impazzire ha patito tantissimo Rafinha cosa che non era successa all'andata perché all'andata aveva Dembélé aveva contenuto la grande anzi a sto giro aveva cambiato il simpaticissimo Xavi ha messo Rafinha e lì abbiamo sofferto adesso a Dunfri sì un po' meglio è andato un po' di più ha avuto anche lui l'occasione di fare gol ma non l'ha fatto nel primo tempo però insomma mi è piaciuto ad esempio Bellanova quando è entrato che spinge che dimostra anche di avere personalità centrocampo l'ho detto in attacco in attacco ragazzi Giacone cioè parto da Giacone parto devi partire comunque dal professore bisogna partire perché perché io quando vedo uno a 37 anni che da tutto per la maglia come fa lui lo sta facendo da due anni con una serietà immensa c'è solo veramente che da dire come direbbe Simbatia Cassano un chapeau perché veramente Giacone ancora ieri ha fatto un partitone Giacone partitone e Lautaro Lautaro primo tempo assente ha combattuto per l'amor di Dio quello poi Lautaro però palloni giocati pochissimi l'unica bello scambio con un vero con un 1-2 con Giacone era fuori gioco l'unica cazzo nel secondo tempo parte tutto da quell'esterno di prima che lancia mi sembra Dunfris e infatti anche Cronista dice beh però dai una giocata di Lautaro da lì hai visto un altro Lautaro veramente veramente questo è il toro questo è il toro che vogliamo finalmente si è risbloccato speriamo che adesso faccia una sequenza di gol perché li aspettiamo aspettiamo Lukaku ci manca Brozovic è entrato Aslani ieri allora Aslani chiaro che tutti gli abbiamo detto di tutti i colori vuoi per il gol mangiato ma soprattutto per il compagno libero in mezzo capisco anche che a 20 anni sei al Camp Nou hai la palla del 4-3 e provi a inzaccarla lì sono tremate le gambe quindi Aslani porco giù da Aslani comunque comunque poi molto bene Darmian che c'è ancora i tacchetti di Dembélé lì tutto a posto Xavi vero su che cos'è a che minuto era quella entrata di Dembélé che poi continuava a protestare a rompere i coglioni a rotti i coglioni per tutta la partita Dembélé che minuto era che non mi ricordo comunque oggi pomeriggio monto le live reaction quindi le vedrete non so a che ora e poi le posto 3-3 che poteva essere un 4-3 addirittura con l'ultimo cross con Gossens in avvitamento con la palla ha fatto un altro paratone lì Ter Stegen quindi le parate le ha fatte Ter Stegen un Inter un Inter bella un Inter bella di cuore insomma che adesso è tutto nelle nostre mani allora siccome io a Inter PSV c'ero con lo Shakhtar no era tutto nelle nostre noi quando erano nelle nostre mani l'abbiamo presa in tuo culo perché poi guardavamo il tabellone se vi ricordate si giocava guardando il tabellone io parlo di Inter PSV perché ero allo stadio all'epoca di Spalletti quindi facciamo questi tre punti facciamo finta che non le abbiamo date neanche due in casa loro ok dobbiamo giocare col sangue agli occhi per dargliene 5 a questi e chiudere ogni discorso e chiudere ogni discorso e fare l'impresa perché già potevi chiuderla ieri e non l'hai chiusa e questa è la cosa assurda che siamo stracontenti perché prima di questa partita avremmo tutti firmato col sangue per un pareggio io lo avevo anche sognato un 2 a 2 tu pensa ho sognato un 2 a 2 ho detto cazzo ragazzi ho sognato un 2 a 2 non so se sarà questa sera però perché andava bene un pari e poi è chiaro che con le ultime due occasioni gridano vendetta però però grande soddisfazione soprattutto ragazzi perché perché partendo dal discorso iniziale vedo una squadra che è col mister ok e quella è una cosa fondamentale allora sì che si può andare avanti allora io dicevo ma è possibile che hanno disimparato a giocare è possibile che non avete più quella cazzima che avevate fino a una parte dell'anno scorso perché poi a un certo punto l'hanno persa perché si credevano belli ce l'hanno sanno giocare ancora col sangue agli occhi quindi non eravamo pazzi noi o dei rincoglioniti che abbiamo visto un'altra intero era al Pisa o era l'Atalanta no? giusto? quindi quello si dice ora avanti ora avanti che c'è la Salernitana ora è il campionato dobbiamo pensare a noi stessi l'ho già detto in un video che cazzo guardi la cazzica devi solo pensare e devi fare più punti possibili perché poi ci sarà ci sarà lo stop il blocco per il per il mondiale basta ragazzi basta questo è il video del giorno dopo analizzando un po' ogni singolo giocatore grandi grandi davvero tutti tutti dal primo all'ultimo veramente mister compreso grande grande pubblico il nostro che godeva e stragodeva e ogni tanto si sentiva anche perché era anche difficile farsi sentire in piccionaia in uno stadio in un clima così e quindi basta ricordatevi come è esultato quel pagliaccione sul primo gol che sembrava che avesse vinto la Champions questo vi fa capire come la sentiva lui soprattutto perché se la sentiva in culo ancora dal 2010 quindi condivisione dei video iscrizione al canale sempre forza in intera e più tardi vi cuccherete le live reaction e godetevele godetevele io non vedo l'ora di lavorarci su ciao ragazzi e sempre forza in intera in tuo culo al Barcellona ah auguroni Marione Inter auguroni Marione Inter che oggi è il suo compleanno a proposito di in tuo culo ciao Melo ciao ciao